questa niente fa la webcam è meglio lo specchio rispetto ascia devi bussare avanti rispetto dobbiamo intervenire immediatamente non mi devi interrompere lo sai quando gli endello ci facciamo belle solo un 40 30 tu mi puoi interrompere ma andando qua giù sta succedendo un 48 ma che codice rispetto 48 burdele avete messo la macchina proprio davanti al cassonetto e limontino niente di me nanna che non prende la munnezza l'hanno migliato su stammatino va bene la mia sposta alla macchina no rispetto non sono all'altezza ad una macchina spostascia non sono all'altezza nel senso che non arrivi che viene vicino ai pedagli e sposta il sediolino che ci vuoi lo posso spostare sposta fai presto e permesso amanti grazie secondo me è necca sa carabiniere oi mari a bici meno male che sia arrivato mantieni un attimo che devo fare una telefonata urgentissima pronto dottor beretta si sono sempre io l'ispettore biondi le volevo chiedere per quella cosa di prima quante gocce devo mettere 10 va bene grazie grazie dammila che sono le goccioline per le collichette non è spiritosa comica sono le gocce per lubrificare che sono la lubrifica mi rimane il colpo in canna in canna in canna in canna non riesco a sparare dimmi niente così non viene commissariato così e sono venuta a trovare un amico mio così tu stai sembra casa mia stai dai sputa il rospo di cosa ti devi liberare no questo mai il bambino me lo tengo se incinta già si vede come l'hai detto tu mamma però lo sai da cosa mi sono liberato già mi sento meglio maria sei proprio un'amica grazie tante marisabella ciao certo arrivederci ciunga raccontami allora sei venuta a dirmi che sei incinta di mio fratello no non lo so veramente non so nemmeno se sono incinta un lieve ritardo di quanto tempo due mesi niente di meno ma te ne sei accorto ma i cavalli succede spesso ma perché sei un cavallo tu si ma c'ho contatto io ma mica infettiva cosa mori però io vengo qua per chiedere un consiglio a un'amica e tu mi butti sempre più giù racconta racconta tutto partiamo dall'inizio tu sei sempre stata regolare parlando con rispetto alla mattina caffè e sigarette ha già fuori ah sei sempre stata regolare nel senso come ti posso spiegare a che età ha avuto il primo ciclo ah otto anni precoci no mountain bike dice il primo ciclo il primo vero ciclo a dieci anni quando papà mi tolse le rotelle fu io ma proprio io come non avevo fatto l'abbonamento che scemi il nostro commissariato calma calma allora fammi a sentire guardami bene dice quando ti sei sentita veramente signorina ah quando papà mi accattava il motorino mi sentiva una femmina proprio non ce la faccio più non ce la faccio che sciacca ma risa però non è giusto io vengo qua a chiedere consigli e tu ti metti a parlare del mio passato tra la bicicletta delle rotelle del motorino ma scusami tanto è deformazione professionale appena uno s'assetto parte l'indagine allora per abbreviare i tempi mettiamolo pure sottoscritto questa cosa va bene che la macchina l'ho presa all'incirca persi venti anni vogliamo andare avanti vogliamo vedere perché le mie cose non mi vengono e che stiamo facendo sto preoccupata marisa vabbè stai preoccupata è una cosa che può capitare non è che vabbè con Ciro ci parlo io non ti preoccupare veramente sì sì ci parlo io è una brava persona un bravo ragazzo ci facciano pare i minaccio e chi lo subito vedi che si viene le sue responsabilità allora ci parli tu ci parlo io vattene a casa sicuramente riposati che tu è stato interessante anzi approfitta che è l'unica modo che si è stato interessante allora io vado marisa va benissimo ci parlo io lui ha sbagliato e dovrà prendersi le sue responsabilità anche se non era presente anche se non era presente come non era presente c'è un goccadinto io marisa non era presente raccontami bene quello che è successo io non mi ricordo che è successo mi ricordo allora ti ricordi quando io feci quella festa al centro ippico che veniste bravo tutti i commissariati tutti i commissariati bella bella festa ti ricordo bella ehi ma andiamo avanti bici te lo ricordi quello del piano bar è lui il padre del bambino no però come cantava bello e come non importa che cantava bello vai al sol e ti ricordi a quel signore che faceva il cameriere che mi buttò addosso la torta addirittura il cameriere del padre del bambino no che l'era troppo figo e ti ricordi come mi rovinò il vestito tu amore per la macchina il vostro stile tanto bello ma come ti ha riconato il vestito il nome del padre il figlio dello spirito san domen salve regina madre miseria padre nostro che se ne cieli noi sai tutti quanti e sai marisa ricordati che stai per uccidere due persone tutto a posto tutto a posto allora chi è il padre del bambino? allora io mo ti spiego che non mi ricordo perché che è successo a fine festa voi venen andaste tutti quanti? rimasi solo io e dovetti dare un passaggio a casa ad Ascione Ascione no questo non te lo posso perdonare ex cognata asculti il seguito stammi a sentire la macchina non partiva allora io e lui dovettimo andare in una stalla ci rifugiamo là dentro andammo a dormire in una stalla al freddo al gelo io Ascione e lui è l'asinella no con i cavalli della mia scuderia sì e maria la mattina però mi sono svegliata e ho trovato Ascione a torsolo nudo giustamente se hai mangiato la mele è rimasto solo la tuzza quale mele? stammi la del peccato e chi la mi si miede questa mele? quindi Adam fosse Ascione non so se si chiama Adam di nome Ascione allora Ascione è il padre del bambino non lo so non lo so no non lo so perché il giorno prima sono stata anche con Ciro e tuo fratello e il giorno dopo? non mi ricordo allora non mi ricordo con chi sono stata non mi ricordo che cosa ho fatto il giorno dopo non ti ricordo che cosa ho fatto va bene quindi il cecchio si stringe e infatti la Ciro non mi fa più guarda che penso che sto facendo i padri possono essere o Ascione o mio fratello Ciro ammesso e non concesso che con Ascione sia successo quello che non doveva succedere e me lo facciamo subito confessare che non doveva succedere successo quello che non doveva succedere Ascia Ascia tutto cosa è 5K subito trattamelo bene a chi l'ho me merda non ti preoccupare appuriamo e poi vediamo sì rispetto a me avete chiamato accomodati Ascia la vedi a bici buongiorno signor un saluto come se il fatto non fosse suo hai qualcosa da dirmi? già avete saputo Ascia la vedi a bici buongiorno signor assoluto al terzo saluto vuole nel senso calmati calmati Ascia tu devi prenderti le tue responsabilità devi riparare al danno vabbè rispetto che vi devo dire la multa la pago io e te lo faccio con la multa e che devo fare devo pagare pure tutte le spese tu non te lo fai capito no io non aborto vabbè voi ci devemmo abortare io il bambino me lo tengo e te li dà e che mi risanzisce a me e vabbè allora proprio caratterizzate aspetta ma io non ho capito una cosa ma questa che si batta a fa che la macchina non è manca su ma quale macchina a vos a mia e i vicini lo stanno sopportando